Ho visto questo video nel quale una signora parlava di come ha perso il suo bambino circa 20 anni fa a causa dell'organizzazione di testimoni di Geova. Questa è una testimoni di Geova convinta che si è sposata giovanissima col figlio di un anziano. Hanno avuto un bambino a 5 settimane di vita, il piccolo accusa una forte insufficienza respiratoria, diagnosi, problemi cardiaci, unica possibile soluzione, intervento chirurgico urgente con una imprescindibile trasfusione. Allora chiaramente lei si trova di fronte all'impasto, una scelta che non c'è, o andare contro Geova come al solito e perdendo Geova si perde tutto, no? La dedizione è il sacrificio di una vita, la prospettiva di una vita eterna soprattutto, per il bimbo e per sé. Perché i bambini chiaramente non vanno nel nuovo regno senza i genitori. Una sua collega, notte di simone di Geova, è stata l'unica a offrire supporto. A dire che se avesse accettato l'asplosione l'avrebbe aiutata in tutti i modi. Addirittura l'infermina si è inginocchiata proprio davanti ai suoi piedi per implorare di salvare la vita di suo figlio. Ora, del simone di Geova non hanno detto nulla, anche il marito non è intervenuto. L'hanno lasciata proprio sola a decidere e l'ospedale ha aperto un procedimento per una trasfusione coatta, come a volte viene. E' chiaro che io dico sempre che bisogna rispettare la volontà della persona quando decide per sé. Qui c'è di mezzo una vita altra da sé, quella di suo figlio. Uno dei peteliti, che era intervenuto per accertarsi che l'operazione non fosse possibile senza la trasfusione, gli ha detto che se l'ospedale avesse deciso di fare la trasfusione senza il suo consenso, lei non avrebbe più avuto responsabilità. Una volta pure parlavo con il papà di un bambino e un testimone di Geova disse ma se mi tolgono la patria potestà poi a quel punto non è più mia responsabilità. Peccato che il giorno prima del risponso il bambino sia morto.